Che cosa è successo alla Croce Rossa? Ha subito un furto durante la grande fiera d'estate? Allora, alla grande fiera d'estate noi abbiamo fatto un'assistenza sanitaria per tutto l'intero periodo di durata della fiera. La fiera stessa ci aveva riconosciuto uno stand dove pubblicizzare le nostre attività, tutte le nostre attività, le donazioni di sangue, il servizio civile, tutta una serie di altre attività tipo clavonerie, truccabimbi, eccetera, eccetera. Ed in più anche le attività che giornalmente svolge la Croce Rossa o in convenzione o comunque a disposizione del cittadino stesso. All'interno di questo stand avevamo portato un monitor che momentaneamente avevamo tolto dalla sala operativa nostra del comitato provinciale. Se nonché domenica è chiusa la fiera, lunedì pomeriggio siamo andati a smontare le nostre attrezzature che avevamo portato lì per l'allestimento della fiera e praticamente ci siamo resi conto che questo monitor non c'era più. Durante la notte con ogni probabilità qualche male intenzionato si è addentrato all'interno della fiera e ha portato via questo monitor. Che cosa vuol dire per la Croce Rossa la perdita di questo monitor? Ma allora il monitor veniva usato in maniera polivalente nel senso che poteva essere utilizzato e come televisore a disposizione per gli operatori di centralino e di sala operativa e come monitor per le attività che la Croce Rossa svolge come gestionali dei servizi, degli automezzi, di tutta l'attività stessa che noi svolgiamo sostanzialmente. Quindi venendo meno un monitor ed avendo già in programma di comprarne alcuni per incentivare e rendere sempre più efficace e efficiente il nostro servizio ora anziché comprarne uno ne dovremmo ricomprare due. Nell'anno 2014 era stata ristrutturata la nuova sede e l'Euronics in quella circostanza aveva fatto delle facilitazioni di acquisto in questo senso e quindi avevamo aderito a questo progetto qua. Ora io faccio un invito a chiunque volesse darci un aiuto per ricomprare questo televisore e questo monitor e anche eventualmente anche altri da dare un contributo alla Croce Rossa non tanto per la Croce Rossa stessa quanto per gli operatori che giornalmente prestano il loro servizio di volontariato di volontariato presso l'associazione che è di fondamentale importanza per le nostre attività. Logicamente sarà ben difficile poter recuperare il valore di questo televisore che si aggira intorno ai 500 euro perché praticamente noi avevamo, chiamiamolo così, l'obbligo di andare la mattina subito a andarla a smontare ma chiaramente se era stato sostratto nottetempo o comunque non sappiamo non l'avremmo trovato neanche la mattina stessa.